Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Sulla statale Trevis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Balsavignone e Canili, in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!